Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi faremo un dolce con un ingrediente che nessuno si aspetterebbe mai di usare in un dolce, cioè i fagioli. Un dolce molto buono e soprattutto dietetico, a basso contenuto di carboidrati. Procediamo con la ricetta. 1 caccao di fagioli in varatolo, 2 uova fresche, meglio biologiche, 3 zucchero di canna integrale, un cucchiaio di olio di semi, 20 g di cacao amaro, qualche goccia di essenza di vaniglia, 4 noci, mezzo cucchiaino di lievito per i dolci e un pizzico di sale. Mettiamo tutti gli ingredienti nel frullatore, frulliamo per 2 minuti circa. Grazie. Grazie. Se la ricetta vi è piaciuta, è una ricetta facilissima e anche poco costosa. Se la ricetta vi è piaciuta mettete mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!